Meghan Markle e il principe Harry hanno dato il benvenuto a una bambina chiamata Lilibet Diana. Hanno annunciato. Lilibet è nata venerdì alle mezzogiorno meno 20 al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara e ora si sta sistemando a casa, hanno detto Harry e Meghan. È la seconda figlia della coppia, dopo Archie Harrison Mountbatten Windsor, che ha due anni. La coppia ha dichiarato in una nota. È con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, accolgono la loro figlia, Lilibet Lili Diana Mountbatten Windsor, nel mondo. Punto. Lili è nata venerdì 4 giugno alle mezzogiorno meno 20 sotto le cure fidate dei medici e del personale del Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. Pesava 7 libre e 11 once, 3,5 kg. Sia la madre che il bambino sono sani e stanno bene, e si sistemano a casa. Lili prende il nome dalla sua bisnonna, sua maestà la regina, il cui soprannome di famiglia è Lilibet. Il suo secondo nome, Diana, è stato scelto per onorare la sua amata nonna defunta, la principessa del Galles. Questo è il secondo figlio per la coppia, che ha anche un figlio di due anni di nome Archie Harrison Mountbatten Windsor. Il duca e la duchessa vi ringraziano per i vostri calorosi auguri e preghiere mentre si godono questo momento speciale come famiglia. Harry e Meghan hanno rivelato che stavano aspettando una ragazza a marzo durante la loro intervista rivelatrice esplosiva con Oprah Winfrey. L loro annuncio è arrivato dopo una serie di bombe che hanno lasciato la monarchia in crisi all'inizio di quest'anno. Meghan ha accusato un membro anonimo della famiglia reale di razzismo, affermando di aver espresso preoccupazione per quanto possa essere scuro il tono della pelle di Archie prima che nascesse. La duchessa ha anche chiamato l'istituto per non averla aiutata quando era suicida. La regina ha risposto dicendo che i problemi sono stati presi molto sul serio ma che alcuni ricordi possono variare e che la questione sarebbe stata affrontata dalla famiglia in privato.